Sindaco, buona parte delle case popolari di Pordenone denota una certa vetustà e registra molto caldo d'estate e molto freddo d'inverno. Sono previsti degli interventi in tal senso? Gli interventi che riguardano le aree delle case popolari sono quelli che ci inorgogliscono di più. Si tratta di autentici brand di città dimenticati da tempo e che avevano assoluto bisogno di manutenzione, soprattutto di efficientamento energetico. Grazie ad una collaborazione con ATER ci siamo aggiudicati un bando da 30 milioni di euro chiamato PINQUA che permetterà di svolgere questi lavori e di garantire anche una maggiore qualità dell'abitare all'interno di queste strutture. Non solo, accanto all'efficientamento energetico, quindi risparmio e migliore qualità dell'abitare, interveremo anche sulle aree esterne delle case popolari, implementando le aree verdi con alberi, la fruibilità degli spazi comuni, garantendo anche spazi per i ragazzi che lì vivono e che attualmente non hanno alcun tipo di risposta. Penso per esempio alla realizzazione di una palestra in Largo Cervignano che servirà proprio alla comunità come luogo di relazione e di aggregazione e la sistemazione delle aree esterne di Via Pontini al servizio di tanti ragazzi che lì vivono ma che attualmente non hanno un posto in cui stare insieme a giocare.